Dopo una richiesta crescente alla quale molti hanno preferito rinunciare, dovendo andare da Scolipiceno a Perugia o a Cesena, ci sono importanti novità che riguardano l'impianto di cremazione del cimitero dell'Olivo. Ieri infatti la Giunta ha deliberato la modifica di convenzione che prevede la possibilità di avere un privato nella gestione, che entrerà quindi nella società, metterà a disposizione le risorse per costruire l'impianto e recupererà poi il proprio investimento con i dividendi prodotti dall'utile in base alle quote dei soci. Dopo questo passaggio che andrà anche in Consiglio Comunale, Asset Holding, Aspes e Comune di Peso Refano, che sono i partner, potranno dare corso a tutto l'iter con il coinvolgimento del soggetto privato e con la realizzazione dell'opera. Quindi sarà un bel risultato, una bella risposta ad un'aspettativa che c'è da parte del territorio, non solo di Fano. Altro argomento trattato durante la consueta conferenza stampa del venerdì è stato quello delle opere compensative della 14. Il sindaco, insieme all'assessore Paolini, al dirigente della provincia Paccapelo e ai tecnici del Comune di Fano, mercoledì prossimo sarà a Roma al Ministero delle Infrastrutture, dove si svolgerà un incontro con la Direzione Generale della Società Autostrade. Tema della riunione sarà la chiusura della convenzione che riguarda queste opere infrastrutturali compensative della realizzazione della terza corsia per un valore di 50 milioni di euro e con lo scopo di poterle realizzare entro il prossimo anno. Ma sarà anche un'occasione per un confronto sul futuro del nuovo casello autostradale Fano Nord a Fenile. Anche perché l'obiettivo è quello di fare in modo che quelle risorse destinate per il nostro territorio non si perdano, anche se devo dire la verità che certe questioni andavano poste prima e non oggi. Però devo anche ringraziare una serie di persone, a cominciare dal Ministro Lupi, dal Vice Ministro Nincini, devo dire anche la Senatrice Fabri che ci ha aiutato, ma anche il Consigliere regionale Carloni che con il Ministro Lupi si è adoperato, per cui l'incontro di mercoledì sarà un incontro importante che chiarificherà alcuni aspetti e spero che possa portare a breve alla firma della convenzione. Seri poi, come già anticipato ieri sera durante il nostro programma Primo Cittadino, ha risposto alle polemiche sulla possibilità di portare un biennio dell'Istituto Agrario Cecchi a Fano, suggerendo anche come possibile alternativa il Codma di Erosciano la sede della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio di Fenile. Nei prossimi giorni l'assessore ai servizi educativi, Samuele Mascarin, farà dei sopralluoghi insieme alla preside dell'Istituto per verificare l'idoneità dei locali. Abbiamo ottenuto un risultato. Comincio a pensare, alcune volte qualcuno diceva a pensare male, ci si azzecca, che tutte queste polemiche sono la preoccupazione dell'opposizione che questa maggioranza comincia a portare a casa i risultati per davvero. Problemi che sono lì fermi da anni e noi, uno alla volta, con serietà, in silenzio, portiamo i risultati. Io non faccio mai proclami prima, li dico sempre il giorno dopo, come in questo caso. Ecco, allora, dobbiamo essere felici che questo sindaco comincia a portare dei risultati importanti per la nostra città.